Io sono venuta qui oggi perché ero interessata a scoprire qualcosa di più sull'esperienza universitaria nel Regno Unito. Avevo già visto qualche sito su internet e quindi avevo già qualche idea, però appunto volevo proprio venire a scoprire quali erano effettivamente le università, come potervi accedere e ancora informazioni sia sui costi sia sulle città in cui si trovano, perché appunto ho frequentato, sono stata in Inghilterra diverse volte, però non ho mai visitato certe città. Appunto ho un'università inglese per poter migliorare la lingua, non volendo studiare a Londra in quanto non sono un amante delle grandi città, ricerco un'università più piccola in un contesto più piccolo e più simile a quello che sono io come persona.